Buongiorno e bentrovati a mattino 6. Oggi, venerdì 25 novembre, si venerà Santa Caterina. Apriamo la nostra rassegna stampa con la lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali dal centro. In apertura l'Abruzzo trascura i disabili, famiglie in difficoltà, i contributi pubblici per l'assistenza non bastano. In centropagina, oculistica alla ribalta, di Chieti, intervento in diretta del chirurgo robot. E poi nelle cronache, Pescara, anziani truffati, scoperto il finto avvocato. Scrutatori, primo via libera al sorteggio, podismo, doping, la del rosso, trovata positiva. Discariche, ora corsa contro il tempo, mappa regionale delle bonifiche per evitare altre multe UE. E dalla regione, aeroporto Pescara, compagnia aerea in gara per i fondi, porti, il ministro del Rio rallenta sul patto con il Lazio. Nel taglio basso, shopping con rimborso sosta, fine settimana disconti e promozioni nei negozi del centro. Calcio serie A, mercato, c'è Pinilla nel mirino del Pescara. Ed ora l'edizione dedicata alla provincia di Chieti, l'Abruzzo trascure disabili in apertura, così come la fotonotizia. Uguale invece nelle cronache, a Lanciano, banditi sparano durante il furto in casa. Chieti, ladre, assaltano il negozio dei bambini a vasto, uccisa in moto, chiusa in chiesa sulla Smargiassi. E poi di scariche la corsa contro il tempo e per quanto riguarda le notizie regionali, così come l'edizione dedicata a Pescara. Nel taglio basso invece, messe in vendita, sette ex scuole, il comune batte cassa, l'asta può sfruttare quasi due milioni. Vastese calcio, Volami pronto ad acquistare, sei rinforzi. Edizione dedicata a Teramo, vediamo la stessa apertura. Nelle cronache invece, sequestrato il casolare dell'omicidio per quanto riguarda l'artigiano bruciato e poi il terremoto. Il comune riparte lunedì nella nuova sede. Giulianova rubano vestiti e tv nelle case arrestati in tre. Nel taglio basso, inchiesta sul rettore D'Amico, doppio incarico pubblico, gli viene contestato l'abuso per la nomina alla tua. E poi la truffa, contratti per luce e gas estorti con l'inganno. Edizione dedicata alla provincia di L'Aquila. Nelle cronache, ragazzo pestato fuori scuola, scovato il bullo. E sono centinaia i posti a rischio nei call center. Ad Avezzano, truffa, nuovo municipio, tre condanne. Nel taglio basso migranti, poca integrazione. E il risponso che arriva da 475 studenti delle superiori. Sondaggio nelle scuole. Sul Mona, redditi dei politici, consiglieri si adeguano. Ed ora la prima pagina del messaggero. Edizione dedicata all'Abruzzo. Pescara, giallo in ospedale. Paziente morta, il perito del GIP accusa all'impianto dell'ossigeno funzionava male. Bacchettate all'intera gestione del tanto spirito inadeguata rispetto alle esigenze. Giulianova ci hanno lasciato solo un primario. Ancora corte d'appello, la presidente Franca Bandera, carenze di personale, ha detto l'affetto dei colleghi. Dopo la nomina arriva il nuovo procuratore. Chieti, inchiesta della procura, rischiano in due la discarica a Sogeri a Velena L'Acqua. Il caso basta apparenti, sì, al sorteggio per gli scrutatori a pescare alla norma anticasta del Comune le scelte in un elenco di categorie disagiate. Aria di ripresa, l'occupazione rialza la testa. Ed ora passiamo al quotidiano della provincia di Teramo. La città in apertura l'hanno ucciso in un altro casolare, svolta nell'omicidio del piastrellista tortoretano. Sequestrato un edificio di campagna a Ripatranzone. E poi in centropagina la fotonotizia. Vediamo Teatro Romano, progetto definitivo, finalmente licenziato. Ora arrivano i fondi. Mazzata Tar, i Deor vanno rimossi. Tortoreto, rigettata la richiesta di sospensiva dei commercianti. E poi terremoto, in breve vediamo Puntelli in Piazza Verdi, attorno al Braga. Iniziato il trasloco del municipio alla ex Banca d'Italia. E poi la polemica tra i sindaci, il Movimento 5 Stelle e Putiferio sugli aiuti ai piccoli agricoltori. Lega Pro nel taglio basso, domani a Reggio, il Diavolo pronto a calare, il Tris. Poi Basket Serie B, Teramo Catanzaro finisce 80 a 73. Ed ora passiamo alla lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali. Vediamo La Repubblica, le notizie nazionali e dal mondo, dall'Economist. Una spinta al nord, anzi non ci sta. Poteri forti UE per il governo tecnico, Marchionne con il Premier resista. E poi la fotonotizia, pioggia record, alluvione al nord, il clima impazzito spacca il paese in due. Piemonte e Liguria, l'incubo dei fiumi. Il racconto nel cantiere di Robinson sulla nuova isola di carta delle culture. Nel taglio basso invece vediamo altri titoli, reportage, sommersi del Danaro. E poi la Boldrini mette online i nomi dei sessisti. Benexit ancora, ciao italiano, il Veneto sia bilingue. Passiamo al Corriere della Sera, alluvioni e sfollati. Sarà di panno i fiumi e come nel 1994, allerta in Piemonte e Liguria, stato di calamità. Ma stavolta eravamo pronti, così l'editoriale, poi il referendum, il decreto fiscale e legge, l'economista, attacca Renzi, il settimanale per il no BCE, possibili interventi. Se l'Europa sta alla finestra, tra i titoli ancora. Ora e poi vediamo una fotonotizia dedicata alla giornata contro la violenza sulle donne, oggi 25 novembre, questo non è amore. La città, le campagne, torna la frontiera, cosa racconta la mappa del voto in USA e Gran Bretagna. Passiamo al messaggero, la pagina nazionale, contratto statali, scoglio 85 euro e la cifra indicata dal governo con aumento medio, i sindacati, deve essere la soglia minima, distanze anche su arresti e regole per la scuola, su arretrati, scusate, e regole per la scuola, dirigenti pubblici, c'è il sì alla licenziabilità. E poi la fotonotizia in centropagina, non bifraggi su Liguria e Piemonte, un'onda di fango travolge i paesi, istituti chiusi e quartieri evacuati, centinaia di sfollati. Gli interventi, vediamo un piano da 75 miliardi per dissesti e terremoti. E poi sul referendum, la trincea di Renzi, la lobby della Brexit, il campo per il no, l'economist, appunto, per i governi tecnici. Passiamo al Il Giornale, in apertura l'inversione di tendenza, adesso la finanza punta sul no, è un'occasione, gli investitori, meglio se perde il governo e anche l'economist tifa contro Renzi. Nella foto, invece, vediamo la Giannini e il Volo d'Oro di Benigni, Roma-Bruxelles, 16 mila euro. L'incubo maltempo e la piena del Po terrorizzano Piemonte e Liguria, ed ancora i rifugiati ospiti tra le pecore sgozzate, malattie, sporcizia e prostituzione. Vediamo lo scandalo del Campo Macello, gestito dal Viminale. E la UECI umilia ancora un inglese commissario per l'immigrazione. Passiamo alla stampa, un fiume di fango e di paura. Vediamo quanto è accaduto, appunto, il fiume che, stradipato per le piogge record, chiuse molte strade, la ferrovia verso Savona, il Po esce dagli argini a Torino, emergenza anche in Liguria. E chiesti 50 militari, a Torino rivolta dei migranti, il prefetto serve l'esercito ancora dove si inceppa la macchina dell'accoglienza. E poi il caso, Boldrini ai social, stoppa gli insulti contro le donne. Tra gli altri titoli vediamo Ponti ha un'arcata e argini, così stavolta ci siamo difesi. Quel boato che spazza via case e auto e poi si parla di referendum. Renzi teme il governo tecnico, l'economista si schiera contro il no e Palazzo Chigi. Il sì ci renderebbe più forti in Europa la manovra, la paternità sale a quattro giorni. Nomine uè, infine, perché Roma resta fuori. Il tempo, il quotidiano indipendente in apertura 2443 euro per non curarsi il dossier. Ecco quanto costa la sanità del Lazio a ogni cittadino, tra lì se d'attesa infinite carenze di posti letto e ospedali chiusi. In centropagina la Europa League, 4-1 al Plezen, giallorossi ai sedicesimi, che vittoria Roma prima nel girone. Per quanto riguarda politica, pronto, brunetta di querelo tra i titoli. Ancora 70 monaci francesi in ostaggio, uccisa una donna, liberati nella notte, caccia al killer. Il sottosegretario, vediamo, corruzione turbativa, Castiglione nei guai. Le carte sull'omicidio di otto mesi fa, sesso, ricatti e fotografie, i segreti del caso Varani. Cara Enzi dalla Su, perdonaci, giornata contro la violenza sulle donne, il ricordo di una donna uccisa dall'ex compagno. Avvenire il fatto, nessuno sa zardi, impedito il voto dell'emendamento alla manovra per fermare la pubblicità di scommesse. E a fini è ancora l'alluvione, la fotonotizia, ecco i danni riportati nella foto e poi ancora dagli USA. Congeliamo le trattative con la Turchia. Passiamo al fatto quotidiano, finanziaria e bocciatura nel taglio alto, finanziaria alla manovra, Vendo tutto e compro voti, il sì zionario, dice, a Cozzaglie e Cabaret. E la bocciatura, invece, l'Economist sta col no. Anche Renzi è unfi, la riforma delle caste per abolire gli elettori. In centropagina, invece, usano pure i bimbi diabetici. A porta a porta, Premier Lorenzin promettono cure migliori con il sì. Vertenze elettorali, vediamo 2.000 esuberi in Alitalia, ma lo diremo dopo il voto. Euro-Parlamento, via da Bruxelles. Schulz, l'ex capo di Bicca, sfida Angela Merkel. Il dossier sulla Farnesina, tutte le anomalie nelle urne estere e poi l'italiano a Praga, Ciridia, la doppia scheda, è vietata. Nel taglio basso, la confessione, Agnelli, Juve ricattata dai tifosi, gli ultras e la loro silente pressione. Morto a 87 anni, addio Sermonti, il ragazzo che istigava a leggere. Libero, bianchi e neri, in apertura si menano. A Torino bombe carta e lancio di bottiglie tra italiani e emigrati, ospiti in un centro. I cittadini sono intolleranti perché l'accoglienza, senza regole, voluta dalla sinistra, ha trasformato molte periferie in una giungla che ci fa paura più che razzismo e lotta per sopravvivere. E vediamo la fotonotizia, licenziamo i forestali, così il titolo, e puliamo i fiumi. E novembre, come sempre, piove e l'Italia si allaga. E poi il caso Brunetta, caro Silvio, da certi amici ti guardi Dio, Movimento 5 Stelle, Tarocco Grillino, a striscia la notizia, avrebbe falsificato pure la firma dell'inviata del Tg. Ancora tra i titoli in breve, causa impunità, le nostre città non sono sicure e ancora Merkel smetta dal mondo di spingere per la Turchia in Europa. Ancora nessun complotto, così ho scoperto la seconda vita di Titti e Renato. Il manifesto, il no tecnico dell'Economist, il settimanale britannico, si schiera sul referendum e attacca Renzi. La fotonotizia per un pugno di dollari, vediamo Trump riportato in foto e poi all'interno. Giornalisti in piazza contro la repressione, città senza farmaci, siamo in Egitto. Ed ancora dieci mesi dopo, lontani dalla verità, elezioni USA, non ha vinto Trump, ha perso Clinton. Femminicidio, bufera sulla RAI, ritirate lo spot e poi sisma e patrimonio con Franceschini. L'articolo 9 finisce sotto le macerie. Il mattino referendum, campagna decisiva, De Luca attacca su di me accuse e indagini a orologeria perché il voto si gioca qui. Il derby tra i due fronti, l'Economist si schiera per il no, Marchionne spero nel sì, ma il dibattito mi ha nauseato, ha detto. E poi il titolo sull'analisi, chi ha paura e disprezzo della politica, il Focus 1, la Florida d'Italia, con il rischio dell'astenzione, il Focus 2, sanità, le sfide del governatore commissario. E le interviste del mattino, Gabbiadini è forte, Sarri si convinca, Ferrara meglio di Pavoletti. Le idee se il Napoli e il suo allenatore non giocano più per vincere le inchieste ancora del quotidiano scommesse, lo Stato fa il gioco delle tre carte. Il contratto statale si tratta offerto un aumento da 85 euro al mese. E poi a Napoli, vediamo la fotonotizia, parcheggia nel posto dei disabili e schiaffeggia chi lo rimprovera, questo vigile urbano va cacciato. Nel taglio basso, inchiesta a Romeu, un dossier contro De Magistris, terrore in Francia, assalto al convento, uccisa una donna, monaci sequestrati, poi il blitz, attentatore in fuga. E il personaggio, addio a Vittorio Sermonti, la prima voce di Dante. La gazzetta del mezzogiorno, referendum veleni sui veleni. L'economist vota no, ma Marchionne spera nel sì, nauseato dagli insulti, i tweet contro Renzi. Confessa la moglie di Brunetta, Grillo, figuraccia PD. Ok, i bilanci ASL, ma vola la spesa per i farmaci. Tra le altre notizie sale il congedo dal 2018, ne ho papà, quattro giorni, addio studi di settore. Ed ancora piogge incessanti, oggi il maltempo si sposta al sud, sotto sott'acqua Piemonte e Liguria, il Po esonda a Torino. E ancora tra i titoli all'interno, tra le notizie all'interno, i titoli La mia vita divina alla radio con Vittorio Sermonti. E la giornata violenza alle donne alla Puglia arrivano 2,5 milioni, ancora a caso Taranto, gli andranno alla bonifica i soldi confiscati. Il secolo XIX, in apertura, l'incubo che ritorna, così il titolo della fotonotizia, alluvione nel Savonese e nel Cunese, centinaia di sfollati in Liguria e Piemonte, a Ponente resta l'allerta rossa. E il reportage, vediamo sacchi di sabbia nella trincea di Albenga, arriva l'onda, ancora la storia Martina uccisa verso il processo grazie al coraggio di un padre. Il caso Boldrini, ecco gli insulti sessisti che ricevo sui social, ora dico basta. La filosofia ancora vassallo, il silenzio è il vero nemico, denunciate chi vi maltratta. E cresce il partito del governo tecnico, l'Economist, abbiamo visto, vota no, servono riforme vere, Renzi è i suoi, vogliono un altro, Monti, l'offensiva del settimanale inglese con il sì, l'Italia rischia un uomo forte. E l'allarme in Francia, centrali nucleari, abitanti esasperati, vogliamo la verità. Passiamo all'unità, stop ai furbetti del call center, approvata la norma contro le delocalizzazioni, le gare pubbliche al massimo ribasso, via libera alla pensione anticipata per le donne, sì, al decreto sparisce. Equitalia, nemmeno con un fiore, così il titolo della fotonotizia, vi racconto di Maria Rosa, quel tetto di cristallo, la fotonotizia dedicata appunto alla giornata contro la violenza sulle donne. E poi ancora Renzi al fronte del no, basta insulti, confronto sul merito, noi con Ampi e CGL e per il sì, ed ancora la Liguria e Piemonte, sott'acqua, strade e fabbriche chiuse. Nel taglio basso invece viola i diritti umani, no all'intesa con la Turchia e il futuro dei dem USA fra Obama e Sanders. La verità, vediamo promesse da Premier, la cattiva scuola di Renzi, decine di migliaia di cattedre ancora vuote, alcuni che chiedono la maestra, alunni che chiedono la maestra, scrivendo a Babbo Natale il peggiore inizio d'anno scolastico della storia. Controvento, il governo denuncia la Spectre, ma era la cucina di Brunetta. In centro pagina la fotonotizia, Trump vuole castigare il Papa per colpa di Bertone. Regali elettorali, il Premier mette la Volpe De Luca nel pollaio della Campania. E ancora italiani di M, puntini puntini, gli immigrati devastano Torino, bombe carta e spranghe, esplode l'attenzione nell'ex quartiere olimpico, da tempo trasformato in un ingovernabile posto gestito evidentemente dai immigrati. La morte dello scrittore, amerei Dante, se Sermonti fosse stato il mio Virgilio, così Vitali, Andrea Vitali. Ed ora ci fermiamo con la nostra rassegna stampa per il consueto appuntamento con Luca Mennella e quindi con le previsioni del tempo di immeteo.net. Eccoci rientrati alla seconda parte di Mattino 6, torniamo alle notizie regionali. All'interno del quotidiano Il Centro, edizione dedicata a Pescara. Abbiamo visto la prima pagina e quindi in primo piano vediamo Abruzzo svantaggiato, bandi, vincoli e graduatori e vita tutta in salita per i disabili. I contributi per l'assistenza non bastano, 600 mila euro, ma servirebbero 2 milioni a fare le domande, erano stati in 276, ma alla fine solo in 38 sono stati ammessi. Vediamo Nicola di Lanciano, senza l'aiuto di mia sorella non potrei più vivere. Per quanto riguarda le persone con disabilità e l'assessore Sclocco, al mio arrivo c'erano 0 euro, spiega le scelte della regione e incassa il via libera alla prima legge sul caregiver. Passiamo ancora avanti, famiglie in trincea, altro titolo, sono felice accanto a Noemi, non mi fermo mai. Andrea Sciarretta, il papà di Guardia Grele, non chiede soldi ma aiuti per l'assistenza ai macchinari e contro le barriere per la figlia affetta da SLA. Ed ora vediamo ancora dal centro le altre notizie, qualche problema tecnico. Vediamo se riusciamo a ripristinare le pagine interne del centro per continuare a vedere le altre notizie all'interno del quotidiano. Quindi parlavamo delle famiglie in trincea e le soluzioni dal governo. Quindi ancora un'altra testimonianza, Camillo di Montesilvano dipendo in tutto da qualcuno, ha detto. La pensione non è sufficiente, Valeria è la madre di Avezzano e poi cambiamo argomento di scariche e bonifiche, corsa a tempo per evitare altre sanzioni e chiudere le 25 infrazioni UE ancora aperte, provincia per provincia. La mappa dei lavori lo vediamo in grafica, i siti nel mirino della UE appunto. Politica, vediamo gli scenari, insulti sul web contro il PD, Lady Brunetta, sono io, il caso De Luca, poi PM apre fascicolo, firme, false, sospetti sulle regionali. E l'Abruzzo verso il referendum costituzionale, sì, un'occasione per favorire la governabilità, così il sindaco di Pescara Marco Alessandrini e invece no, riforma truffa, falso dire che si riducono i costi, così il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio. Economia in odi, la manovra alla Camera, ok, entro il 4 dicembre, poi contratto statali all'ultimo miglio, si tratta per aumento di 85 euro, l'abbiamo visto, tra le notizie sui quotidiani nazionali. Stalking, vittime, milioni di donne, la giornata mondiale contro la violenza, i dati appunto sulla violenza sulle donne e poi la bufera sullo spot voluto dal governo. Ed ancora, alunni picchiati, maestre nei guai, a Reggio Calabria e altre notizie. Qualche piccolo problema con la tecnologia questa mattina. Intanto, in attesa del ripristino, passiamo al messaggero, vediamo le notizie all'interno, se ci riusciamo. Quindi abbiamo visto la prima pagina sia del messaggero nazionale che della edizione dedicata all'Abruzzo. Vediamo quindi le pagine interne del messaggero, passiamo direttamente alla pagina dedicata alla provincia di Pescara. Scrutatori a sorteggio, sì, del Consiglio alla norma anticasta, ripresentata e approvata la mozione di Scurti e Barardi. La selezione dall'albo andrà in aiuto alle categorie disagiate. L'avvertenza, la ICO pronta a recuperare 73 operai, previsti incentivi per i 50 licenziati. Scacco alla banda del falso avvocato, arrestato dai carabinieri, un napoletano messo in fuga dalla vicina della vittima, la quale aveva estorto 3.500 euro. Sono i pendolari del crimine, arrivano con auto a noleggio e ripartono in serata raffica di segnalazioni al centralino del 112. Quindi un arresto dai carabinieri a Pescara per questa tentata truffa. Vediamo su questo articolo il contributo video di Paolo Renzetti. È stata ancora una volta la collaborazione fra i cittadini e le forze dell'ordine a sventare una truffa ai danni di un'anziana abitante in pieno centro a Pescara. Nella rete dei carabinieri sono finiti un 36enne arrestato e il suo complice di 62 anni denunciato a piede libero. Ieri mattina ci sono arrivate delle segnalazioni al 112 in merito alla presenza di due soggetti che ambiguamente frequentavano i condomini del centro. L'immediato intervento ha consentito di individuare un'autovettura, una Peugeot 5008, che è risultata noleggiata a Napoli. Ed era comunque inserita in banca dati come autovettura in uso a potenziali soggetti dediti alla commissione di reati contro il patrimonio. Quindi è stato dapprima individuato quello che era il palo. E poi contestualmente è stato notato uscire dall'androne di un palazzo quello che poi è stato accertato essere il reale truffatore. Lui fra l'altro era accompagnato, quasi inseguito, da un'anziana che lo rimbrottava per qualcosa. Sostanzialmente una telefonata aveva annunciato all'anziana la presentazione di un incaricato per la riscossione di quella che era una somma richiesta, 3.500 euro, per liberare la figlia di questa potenziale vittima, poiché asseritamente coinvolta in un incidente stradale e trattenuta nella caserma dei carabinieri di Pescara. Effettivamente poi il truffatore si è presentato al domicilio, ha chiesto il denaro, mentre la vittima stava preparando la somma, forse mettendo insieme anche dei gioielli per indisponibilità di denaro contante, fortunatamente è arrivata una vicina che ha capito subito quello che stava succedendo, ha messo in fuga il truffatore che poi ha trovato i carabinieri ad accoglierlo in strada. Ed ancora vediamo dal messaggero violenza stop in scena le storie delle donne ferite, il teatro dell'Orfeo Folle chiude il programma domenica all'Aurum. Ancora il pioniere della TV, Bruno Vespa al convegno su Pacilio, Pacilio ricordiamo è scomparso lo scorso 29 luglio ed è stato un pioniere dell'informazione televisiva in Abruzzo. In breve delitto buco, in arrivo una nuova archiviazione e ancora il via con la mostra degli scatti in gara per quanto riguarda l'evento Cepagatti Arte. Andiamo ancora avanti, sotto accusa l'impianto di ossigeno, l'inchiesta ospedale per i periti incaricati dal GIP e il malfunzionamento sarebbe la causa della morte di una paziente a Medicina Est. La rivelazione durante l'udienza per l'incidente probatorio, gestione ospedaliera di inadeguata qualità rispetto alle esigenze. Il giallo trovata una pistola pronta a sparare in un appartamento disabitato. La 7,65 risultata rubata nel Terramano. Le indagini scientifiche dovranno stabilire se è già stata usata infatti di sangue. Via l'Europa, una proprietaria, lesioni vecchie, nessun pericolo. Ed ancora pagina dedicata all'Aquila, call center, il bando IMS mette a rischio 500 posti. I criteri rischiano di penalizzare l'azienda a causa dell'alto costo del personale. Scatta la mobilitazione, vertice con l'Olli e assemblea generale con i sindacati. La sentenza droga a fiumi da Roma, condannati a sei anni in occasione dell'arresto uno dei due sotto indagine, tentò di investire un agente. La protesta, dipendenti team sit-in davanti alla sede, previsto per martedì 29 novembre. Ancora lavoro, megaparcheggio, cassa integrazione per 20 dipendenti. E poi il caso, casa con cemento scadente, nominato un perito tecnico. Violenza sulle donne, calano le denunce ma mancano strutture. Il bilancio nella giornata internazionale diventa difficile rivolgersi alle forze dell'ordine se non ci sono case rifugio. E la polemica, segnazione in pianti sportivi, lettera aperta, ambiente, un eco compattatore per le lattine d'alluminio. C'è da fare un fine settimana denso di appuntamenti ed eventi. E poi ancora il premio, ad un mio abbonanni, oggi prologo a casa Onna. Nuovo comune, pesanti condanne ad Avezzano per tecnici e imprenditori, confermata l'accusa di truffa e a conclusione del rito abbreviato durato un paio di anni. Confermate le maxi provvisionali. L'edificio è costato finora oltre 5 milioni di euro e non è mai stato completato. Udienza di convalida dell'arresto, il pugile di Berardino nega l'estorsione. Cappelle dei Marsi, spedizione punitiva al pub, arresti a raffica. Sul Mona, tribunale, oggi riparte la battaglia. E sempre a Sul Mona, treni in rete, va in scena la rabbia dei pendolari. Botte per una sigaretta arrestato. Il GIP Marco Billi ha disposto i domiciliari per il 21enne che aggredì un minore. Ad Avezzano, imprenditore avezzanese alla corte di McDonald e a Tagliacozzo per recuperare la Playstation chiamano i carabinieri. Chieti, la discarica suggeri, avvelena l'acqua, la falda contaminata da rifiuti industriali tombati. Novità allarmante a conclusione dell'inchiesta del PM Falasca. Rischiano il processo per disastro ambientale. Franco Gerardini, dirigente regionale e il progettista della Bonifica, Giovanni Leve. Calcio violento di primio. Una vergogna per Chieti. Le minacce a Giacomini e Mariani. Le iniziative, scarpe rosse e arte contro la violenza sulle donne. Servizi alle imprese. Protocollo per le piccole. Camera di commercio di Chieti. E poi, in breve, ladro d'auto condanna Lampo per un foggiano. Colline Teatine, progetti europei. I comuni si attrezzano. Porti sotto Civitavecchia del rio Frena, ad Ortona, lettera del ministro Adalfonso. Ora ci sono le condizioni per trasferire gli scali di Ortona e Pescara all'autority laziale d'Alessandro. Già istituito il tavolo tecnico tra regioni e ministero per definire il regolamento sul passaggio. San Salvo, zona industriale al buio e insicura imprenditori e il sindaco Magnacca al prefetto rafforzare la presenza di agenti. A Vasto, svaliggiato Mondovela, il centro ora ha paura. E a Lanciano, in breve, vediamo panchina rossa contro la violenza sulle donne. Pagina dedicata a... Vediamo cantiere della discordia, Natale con i lavori, Brucchi, Convoca, Ditta e negozianti, commercianti per lo stop immediato. Il comune teme problemi contrattuali, ora si cerca una soluzione condivisa. L'alto là agli operai, forse l'8 dicembre. Camera di commercio, fusione con l'Aquila, il sindaco contrario ed ancora ex ospedaletto, la comunità per i minori al posto del conservatorio. Il Braga resterà nei locali della fondazione Tercas per un anno, poi subentrerà il centro dell'Asp. Viabilità, Piazza Verdi, Gincana per i puntellamenti, il sisma, vediamo parco della scienza o ipogeo per il consiglio comunale. Le due sedi in ballo dopo le lesioni a Palazzo di Città e il trasferimento degli uffici alla ex Banca d'Italia. Vediamo ancora sulla costa, Giulianova, niente nuovo ospedale nel vecchio presidio, resta un solo primario. L'unica unità operativa complessa rimasta è medicina, tutte le altre specialità sono state chiuse o declassate. Giulianova, svaliggiano due case arrestati in flagrante. Il delitto, Demetrio fatto a pezzi e dato alle fiamme, il terreno intorno al bracere intriso di sangue, un quarantenne italiano, il killer filmato con la tanica. Il giallo, vediamo sempre a Tortoreto, la verità su Giulia non è suicidio, lo zio Claudio in famiglia sappiamo tutto di tutti, lei attraversava una fase positiva. E i controlli a Roseto, i genitori protestano, ispezione all'asilo, il comune rileva piccoli problemi al Mariele Ventre e segnala la situazione alla cooperativa. Ed ora torniamo al quotidiano della provincia di Teramo, la città, vediamo le notizie all'interno, riportate dal quotidiano. Abbiamo visto in apertura la prima pagina, quindi vediamo la pagina dedicata alla regione, BPB, un altro passo verso la società per azioni, così l'apertura convocata per il 10 dicembre, l'assemblea dei soci per la trasformazione dell'istituto di credito. E lo studio Unipol, ogni abruzzese passa in macchina un'ora e mezza al giorno. Cronaca, Chieti, sostanze inquinanti nelle acque di scarico a Tollo, quattro denunciati per la presenza di rifiuti nei pressi dell'ex fornace Gagliardi. E per quanto su questo articolo ci fermiamo appunto per vedere il contributo video di Alfredo Primante. Dovranno rispondere della presenza di rifiuti pericolosi al di fuori dell'area di messa in sicurezza permanente dell'ex fornace Gagliardi. In contrada Venna di Tollo, le quattro persone denunciate dal Corpo Forestale dello Stato di Urtona, che sta conducendo le indagini sul sito in provincia di Chieti, sin dal 2014. Manganese, nickel, ferro, cromo totale, boro, nitriti, solfati e floruri, tutti inquinanti trovati dalle analisi sulle acque sotterranee del torrente, valori anomali nelle falde e nelle acque di scarico, che possono avere conseguenze letali sulla salubrità ambientale. Per affrontare l'inquinamento è stato bloccato lo scarico diretto delle acque reflue nel torrente Venna, che poi confluisce nel fiume Foro, grazie al posizionamento di vasche attenuta, e sono stati rimossi tutti i big bags contenuti nel capannone. Inoltre sono state interessate tutte le autorità e gli enti preposti alle procedure di messa in sicurezza dell'area, con il sindaco di Tollo, Radica, che ha predisposto un'ordinanza per vietare la captazione dell'acqua dal torrente Venna. Oltre a quanto ammassato all'interno dei due capannoni dentro i big bags, che sono stati rimossi, ci sono rifiuti tombati che, secondo le indagini, nonostante dovessero essere in sicurezza, avrebbero in realtà contaminato la falda. Rifiuti speciali interrati al di fuori dell'area cinturata, un'area che durante i lavori di messa in sicurezza, finanziati dalla regione Abruzzo nel 2009, era stata infondatamente dichiarata incontaminata. Questi rifiuti, a pochi metri dal torrente Venna, portati alla luce per ora in una piccola parte, grazie all'ausilio di un escavatore, sono risultati della stessa tipologia di quelli contenuti nei big bags e quelli sotterrati nell'area di messa in sicurezza, ovvero scarti di concerie e di rifiuti di processi industriali con concentrazioni consistenti di metalli e di altre sostanze riconducibili alle scorie di fusione. E ancora nel taglio basso, il bilancio d'Alfonso soddisfatto per i dati sull'occupazione dal nostro insediamento in Abruzzo, c'è un saldo positivo di 37 mila unità, ha detto. Teramo, Teatro Romano, firmato il progetto definitivo, ieri l'amministrazione Brucchi ha licenziato la progettazione del recupero che sbloccherà i fondi. Processo d'appello, ustionato alla torre, la prescrizione assolve tutti. E ancora la Camera di Commercio pronta ad eleggere il nuovo presidente. Ai papabili Ballone, Lanciotti e Beccaceci si aggiunge anche il presidente di Confindustria, Zippilli. Li vediamo nelle foto, i dubbi di Brucchi, chiunque sarà il nuovo presidente dovrà lavorare per mantenere la sede principale a Teramo. E stasera a San Nicolò a Tordino la festa per l'indipendenza dell'Albania. Braga, Valente ringrazia per la sede e Bacchetta, sfogo del presidente del Conservatorio durante la presentazione della comunità per i minori al Ventili. I primi puntelli spunteranno in Piazza Verdi, sostegni in Piazza Verdi e gli altri due lati. Il parcheggio perde stalli e cambiano i sensi di marcia. Viabilità, impossibile bloccare i lavori al ponte di Nocella a Campli. Tornando a Teramo, quartiere Cona, ordinanza sbagliata. Il multiplo resta aperto. Già iniziato il trasloco del municipio, nella sede temporanea alla Banca d'Italia saranno trasferiti anche gli uffici della pubblica istruzione. Qui viene riportato anche nell'articolo, vediamo la nuova sede, quindi del Comune sarà nella ex Banca d'Italia, la firma del comodato tra Brucchi e Donato, il nuovo ufficio del sindaco al terzo piano, il trasloco attraverso il cortile interno, l'ingresso agli uffici del primo piano. E anche su questo articolo ci fermiamo per vedere il contributo video di Tania Bonici Castelli. Il Comune di Teramo chiede aiuto e chiama, la Banca d'Italia risponde. In seguito alla dichiarata inagibilità post terremoto di Palazzo Orsini, sede storica del municipio, uffici comunali e 25 dipendenti hanno bisogno urgentemente di un nuovo stabile per continuare ad essere operativi. La Banca d'Italia arriva in soccorso e concede al sindaco Brucchi il proprio palazzo di Via Carducci, incomodato gratuito per un anno, tempo estensibile secondo le necessità del Comune. Un bel gesto in questo momento in cui Teramo veramente soffre. Grazie per la definizione di bel gesto. Per noi come Banca d'Italia dal punto di vista proprio della nostra presenza istituzionale del Paese è un gesto naturale. In occasione di altre situazioni drammatiche come può essere stato il terremoto dell'Emilia, il terremoto dell'Aquila, abbiamo sempre dato supporto alle comunità locali. Da lunedì prossimo dunque gli uffici comunali di Piazza Orsini riprenderanno le normali attività in Via Carducci e che la scelta sia stata quella di lasciarli in centro storico e confortante per la vita stessa della città di Teramo che esce in malconcia dal sisma del 30 ottobre e che ha bisogno di essere ripensata urbanisticamente. Una sede in centro storico, anzi come sta il centro storico di Teramo? Ma purtroppo il centro storico non sta benissimo perché i palazzi inagibili sono tanti, ieri sono arrivate nuove ordinanze, insomma ci sono diversi palazzi pubblici che sono inagibili, ci sono diversi, tanti palazzi di privati inagibili. Questo è un problema, ecco perché io ritengo che bisognerà in qualche modo mettersi intorno a un tavolo e ripensare un po' anche questa città, ripensarla a 360 gradi a partire proprio dalle scuole, ma non soltanto dalle scuole, anche da quella che è l'edilizia pubblica e l'edilizia privata. Questo terremoto ci ha detto, ci ha evidenziato che c'era necessità di una riprogrammazione urbanistica della città di Teramo. Ed ancora dal quotidiano della provincia di Teramo, nel taglio basso i problemi, prefettura inagibile a metà, trasloco al palo, gli uffici sul lato di via Capuani bloccati dall'ordinanza di Sgombero. Putiferio sugli annessi agricoli nel cratere, i sindaci chiedono una misura antispopolamento per allevatori e agricoltori, il Movimento 5 Stelle grida all'abuso edilizio. Ed ancora vediamo il giallo di Tortoreto, piastrellista ucciso in un altro casolare, sequestrato a un vecchio edificio di campagna a Ripatransone, dove si sarebbe consumato il delitto di Demetrio di Silvestre. Il precedente, un anno fa, nei pressi dello stesso casolare di San Savino, erano state trovate ossa umane sepolte. Verso le elezioni, Gianni chiede supporto all'ex sindaco di Matteo, a Martinsicuro, ed ancora a Tortoreto il Tar, i DO vanno rimossi, mazzata sulle attività, respinta alla richiesta di sospensiva dei provvedimenti del commissario. Prima dovremmo pensare al vecchio ospedale, così in apertura Giulianova Laura Ciafardoni, mentre il sindaco combatte per il nuovo edificio, la gente non può ammalarsi. A preoccupare la Ciafardoni è vedere disattese le istanze riguardanti la riqualificazione. San Flaviano, presentata l'audioguida degli studenti. Mosciano, il serbatoio di Montone sarà demolito. Ed ancora, Silvi, nuova illuminazione sul lungomare, incontro in regione sul piano asfalti. L'amministrazione comunale prova a risolvere i problemi entro l'estate. Ed è prevista una conferenza dei servizi per cercare di sistemare il tratto interno dell'Adriatica. Roseto, tre rosetani, manette per furto negli appartamenti. Ad Atri, alienazioni disertata l'asta per l'ex carcere di Atri, il comune prepara un nuovo bando. A Pineto, presentata la Scuola Superiore in Tecnologie del Legno, incontro con gli studenti della terza media nella sede della Aran World. Cultura, vediamo in apertura. Non rimandare a domani la vita, riscoprendo il poeta dimenticato per Franco Mattacotta, un libro di Morelli. E torniamo al messaggero per vedere la pagina sportiva. Abruzzo Sport, in apertura con il calcio di Serie A. Biraghi vota alla fiducia. Pescara, devi credere ancora alla salvezza. Il difensore, siamo una squadra giovane destinata a crescere. La Roma è fortissima, ma noi in ogni gara ci giochiamo la vita. E la giornata, vediamo Caprari recupera. Aquilani in dubbio. Tra i convocati torna anche Baebek. Oddo ha approvato cristante centrale nei tre di difesa. Muric si candida. Ora sto bene, spero di giocare. Lega Pro, vediamo Nofri, Teramo. È il momento di risalire la classifica. Boulevardi recuperato, forse in campo a Reggio Emilia. La maceratese penalizzata di tre punti. E su questo articolo ci fermiamo, anche per ascoltare direttamente nel servizio. Nofri. Credo che la Coppa Italia quest'anno ha un valore al di là di quello che è la competizione che ti permette di vincere un trofeo. Eventualmente poi ti permette, con un piazzamento anche nelle semifinali, di poter eventualmente accedere a una possibile seconda torna di play-off. Siamo contenti di aver vinto questa partita. È chiaro che dobbiamo migliorare la posizione in classifica perché non possiamo solo pensare all'un eventuale, comunque sia, poi ci sono altri turni da superare, ma dobbiamo pensare prima alla classifica del campionato, poi la Coppa Italia l'abbiamo interpretata bene. Accediamo ai quarti di finale e adesso la Coppa Italia la accantoniamo perché ne riparliamo l'8 febbraio, nel quarto di finale, che dovremo giocare contro l'Ancona. Andiamo a giocare su un campo sicuramente difficile perché in casa hanno fatto sei vittori, prima è solamente un pareggio, hanno subito solo un gol e ne hanno fatti 13, però noi dobbiamo per forza di cose muovere la classifica. Dunque dobbiamo essere convinti che possiamo prendere punti a Reggio Emilia, dobbiamo mettere in difficoltà, sotto tutti i punti di vista dell'organizzazione, la corsa, l'aggressività, la copertura degli spazi, non dobbiamo concedere ripartenze perché è una squadra molto abile in questo. Ci sono giocatori tecnici che vanno aggrediti e non vanno fatti lasciare ragionare, altrimenti diventa difficile. La squadra credo che ormai ha capito quello che è il contesto con cui ti devi porgere quando devi risalire la classifica e senza di quello è difficile contro tutti, soprattutto con le squadre che sicuramente dal punto di vista tecnico hanno qualcosina in più. Termina qui l'appuntamento con Mattino 6 che torna domani puntuale alle ore 7. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.